Sette camicie con i suoi camicie. Forse troppo. Motore. Partito. Tanto le prendiamo. Massi, andiamo. 1130. Azioni. C'è, lui, ti rendi conto? Lui non mi ha più richiamata. Mai più. Dopo sette mesi di messaggi incessanti su tutti i cazzo di social 24 ore su 24. Però chiamami, no? Eh, chiamami. Però... Aveva un cazzo grande. Grande e grosso. Era molto grosso. E io allora le ho detto a lei... Ma io che cosa sono tua sorella? Ma che ti rivolge a me così? Ci vuole rispetto. Eh, io non posso insegnarti ad imbustare il pane. Capisci? Però se io pago... Cazzo, pretendo professionalità? Professionalità. No, io comunque... Io ho deciso. No, io non salirò più su un pullman schifoso con cinque più trasfertisti. Puzzano. Fanno schifo. Acido. Lattico. No. Ma... Che dici? Guarda, mi ascoltami. Lazzar inizia a bagliare con il cane. Aaaaah! Così. Ok, basta che ciocchi un attimo, eh. Ma lo dici? Io devo capire queste cose! Devo capire! Devo capire! Devo capire! Devo capire! Devo capire! Moro di qualcosa! Parla! Parla! No! No! Devo capire! Devo capire! Ascoltami, secondo te lui mi richiaverà mai? Insulta, insulta! Mi richiaverà mai! Faffanculo! Faffanculo! Mi richiaverà! Mi richiaverà! E io non sono sua sorella, capisci? Faffanculo! 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 Bello, bello! Mi piace! Eh? Capisci? Io devo capire queste cose! Tu mi devi ascoltare! Quando... Basta! Basta! No! Io devo parlare, devo parlare, devo dirti le cose perché se lui non mi ha risposte, se quella è una strontzerà tutta! Stop! Va bene, grazie!